È dedicato alle rocche e dai castelli presenti nell'Odigiano e non solo il nuovo volume curato dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi. Nell'auditorio di Via Polegni Lombardo è stato presentato ufficialmente. Per l'occasione sono intervenuti il presidente della Fondazione Duccio Castellotti, il direttore della banca Fabrizio Marchetti, l'autore dei testi Ferruccio Pallavera ed il fotografo Antonio Mazza che lo ha corredato delle immagini. Tra il pubblico anche il vescovo Giuseppe Merisi il volume descrive con parole d'immagini la storia di sedici tra castelli e rocche tuttora presenti nell'Odigiano, nel milanese e nel cremonese. Si tratta di edifici che oggi rivestono un ruolo particolare nel turismo locale ancora da valorizzare compiutamente. La Fondazione ha messo in venta il volume ad un prezzo di favore nell'intento di raccogliere fondi da destinare all'associazione Progetto Insieme che gestisce la mensa pubblica di via San Giacomo ed il dormitorio per senza casa di via Defendente.